E' trascendente e irrappresentabile, però forse possiamo immaginarlo? Disegnarlo? Dipingerlo? Scolpirlo? Non ti farai immagine alcuna, è il gelido precetto dettato dalle vette del monte Sinai a Mosè. Che cosa dunque c'è al di là di qualunque immagine? Che cosa è radicalmente inimmaginabile? Non ti farai immagine alcuna. Non ti farai immagine alcuna, è il gelido precetto dalle vette del monte Sinai a Mosè. Grazie. 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 Grazie.